Gli agenti della volante del commissariato di pubblica sicurezza di Cava dei Tirreni sono intervenuti in piazza San Francesco a Cava dei Tirreni, dove era stato segnalato uno scippo ai danni di un'anziana signora. Gli operatori acquisiti tutte le informazioni dalla denunciante e dai testimoni riuscirono ad individuare e bloccare l'autore del reato, che in un primo momento si era nascosto nei bagni pubblici. Il giovane, un 23enne di Salerno, pluripregiudicato, dopo essere stato fotosegnalato a cura della polizia scientifica, veniva deferito in stato di libertà dall'autorità giudiziaria per il reato di furto con strappo. La refurtiva è stata poi restituita all'avente diritto.